Noi comunque un mese fa abbiamo fatto un dibattito parlamentare specifico su questo tipo di rischi e Gentiloni, e Gentiloni alla Camera, ha rigettato in tutto e per tutto tre punti di una nostra risoluzione che guarda caso adesso diventano invece l'agenda di governo. Quindi, come direbbe... Quali erano questi tre punti? ...comunque sono arrivati con un certo anticipo sul previsto ritardo delle azioni che sarebbero state effettivamente quelle da mettere in campo già un mese fa quando si è evidenziato il rischio libico. E invece qui mi sembra che non ho ben capito se a questo punto c'è una carenza di informazioni da parte dei servizi nei confronti della catena di comando del governo o se c'è invece una, come immagino, una sottovalutazione dei rischi da parte del governo che arriva sempre in ritardo. Non c'è una sottovalutazione dei rischi. Non c'è una sottovalutazione dei rischi. Tu non fai parte del governo. Hai rischiato di farne parte ma non ne fai parte. Però c'è una sottovalutazione perché quando dall'opposizione in maniera responsabile si fanno delle proposte tipo quelle del blocco navale e tutti dicono che fesseria è il blocco navale dopodiché arriva addirittura Bernardino Leoncio all'inviato dell'ONU a dire Signori, in Italia vi conviene predisporre un'operazione di blocco navale e noi daremo il supporto come Nazioni Unite evidentemente c'è un approccio ideologico da parte vostra nel gestire un'emergenza che può pesare sulla pelle di tutti quanti i cittadini che dovrebbe essere rimosso e invece dovrebbe essere un attimino preso in considerazione a 360 gradi quelle che sono le valutazioni fatte anche per l'opposizione. Grazie a tutti. Grazie.